Questa cestina usualmente si chiama attreccia, vale a dire così ingrecciata normale. Ecco si parte da qui diciamo con dei montanti che via via si aprono. Ecco i primi cili sono fatti a doppia con quattro capi, poi a tre fino alla una circonferenza arriva a un diametro che uno vuole, per esempio questa arriva a circa 20 centimetri circa. E poi una volta finito la base diciamo si inserisce lungo i montanti si inserisce questi questi bimini si inseriscono e poi ecco mano a mano si comincia a intrecciare due sopra, due sotto, una sotto, una sopra e così via. e fino alla fine. Poi una volta terminato la incominci a tirare su, tiri su e lei e poi tiri perché queste fino a che a raggiungere l'altezza che vuoi e così via. Una volta finito rimane di fare la treccina ultima, questa qui, per fermare tutte le i bimini che sono stati piegati. Ok va bene, questa è un po' la descrizione di una cestina portapane, poco più. che è un po' la smettolo. E' un po' la smettolo chiama. E' uno più vello.